Durante la mia infanzia e adolescenza ho vissuto all'estero frequentando scuole francesi. Questa esperienza è stata molto importante perché mi ha permesso di conoscere altri paesi ed altre culture molto diverse dalla mia. Ogni volta che cambiavo paese dovevo ricominciare da zero ed adattarmi di nuovo. Non ho mai messo radici in un paese poiché ci rimanevo soltanto per alcuni anni. La mia conoscenza del francese mi ha permesso di andare più volte a Parigi per lavoro. Ho lavorato infatti più volte nel parco Disney, dove ho riscoperto un ambiente internazionale dove lavorano impiegati provenienti da tutto il mondo. Tutte queste esperienze mi hanno aiutato a capire che la capacità di adattamento e la comunicazione sono aspetti fondamentali per il successo lavorativo. Attualmente sono iscritto alla facoltà di economia ed in futuro spero di trovare lavoro nel settore del commercio internazionale, dove potrò applicare le mie conoscenze acquisite e le mie esperienze.